Sì, non mi fate una cosa del genere qui, eh? Mi faccio appoggiare, vi prego! Vediamo dove posso fare il... Qui mi sembra il posto giusto! Va meglio? Mica tanto! Questo è bellissimo! Ma è chiaro che non sono sulla terra! Che c'è? Che cosa? Ma non lo so, sento qui un formicolio sotto la reni! Oh, buon segno! È il sangue che scende dal capello! Che c'è? Ah, 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 ah! Fatto! Ah, 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 ah! La mia mente! Ah, non lo so, ho trovato l'ancinante! È come se qualcuno deve essere percorato! Che cosa? Buon segno! Eh? Come è l'osso? Ah, deve essere il mattone bagnato! Oh, Dio! Oh, Dio! Guardi qua! Oh, esporti! Perciò sarà meglio chiamare un medico! Oh, no! Non dico no! Ehi! Ho solo bisogno, ho solo bisogno di un po' di aria e di una tisana! Allora chiamati! Sì, sì, sì! 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 Se il signore avessi chiamato è andato qui per, per accoltarli! No, per te, un balcone, un'altra tazza! Ho bisogno di un po' di aria! Oh, in fondo al corridoio! Al tuo, a dentro, oppure qua fuori! Sì, come preferisci! Ah, va bene! Sì, e portateci una porta da cucinale! Sì, sì! Per me? Ah, per... E poi, mi raccomando! Tante volete che possa andare? Appena mi sento meglio, togura subito! Oh, come mi sento male! Oh, come mi sento male! Lo sapevo! Lo sapevo! Eh, caverieri! Una tisana del tè qualcosa! Ma signora, ha tutto chiuso a quest'ora! Come... Ah, da signore che è andato via! Eh, tutte le sere si faceva il tè! Deve aver dimenticato tutto! Oh, è... Stifo! Lo sapevo! Lo sapevo! Lo avevo detto io! Lo avevo detto! Ma le tre porte non si aprono mai! Ecco qua, signora! Spero che avrei trovato tutto!